Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono uscite le missioni dell'aviazione reale. E non solo, è anche uscito un leak, sono state svelate tutte quante. Io per questo video riuscirò a farvi vedere anche quelle che devono ancora uscire. Quindi ragazzi, in questo video vedremo inizialmente le regole della modalità, come funziona, qualche consiglio su come fare le cose, e poi vedremo tutte quante le missioni, non solo le tre che sono già uscite, ma anche tutte quelle che mancano, tutte e nove le missioni ragazzi. Quindi senza ripeterci, andiamo velocemente al video. Allora innanzitutto mi scuso se la qualità del video di oggi non è al top, ma ho pochissimo tempo per fare il video, ma voglio lo stesso farvi vedere le missioni, visto che sono riuscito a raccogliere tutte quante al primo giorno. Quindi parliamo prima velocemente della modalità. Si chiama Air Royale, appunto aviazione reale, e è una modalità a coppie dove due giocatori staranno su un aereo, e attenzione, staranno tutta la partita sull'aereo, non si scenderà mai se vi droppate, cadete a terra, morite istantaneamente. In caso di morte di un giocatore ci saranno respawni limitati, mentre in caso di istruzione dell'aereo ci saranno in totale tre aerei a disposizione, dopodiché saremo eliminati dalla partita. Inizierete con un set di armi grigie che potrete potenziare nell'arco della partita, passando con l'aereo attraverso questi cerchi che vedete in giro, che rappresentano quelle che nel gioco normale sono le ceste, quindi potenzieranno i nostri oggetti. Ci saranno anche dei cerchi rossi, che invece saranno ricariche di munizioni e di vita, quindi ripareranno sia la nostra vita che il nostro aereo. Si inizia in 12 coppie, come già detto il vostro aereo ha tre vite totali, e se siete l'ultima coppia rimasta, l'ultimo aereo rimasto in volo, otterrete la vittoria reale. Altra cosa da sapere, la tempesta si chiude anche dall'alto, quindi sarete sempre costretti a volare più in basso. Le missioni, detto quello che ho detto fino adesso, sono piuttosto semplici. C'è alcune cose che vi voglio ricordare, ragazzi, mi raccomando, il gruppo assistito, che in alcune di queste missioni sarà veramente molto molto utile, dal momento che alcune sono piuttosto lunghe, e l'aiuto di un amico con il gruppo assistito ridurrà notevolmente i tempi per farle. Ma abbiamo già detto abbastanza su questa modalità, adesso andiamo a vedere le missioni che sono trapelate, che sono state estratte dai codici, il leak che è stato fatto. Per questo leak, per queste missioni svelate, dobbiamo ringraziare ShinaBR che le ha pubblicate su Twitter e RiftFNBR che probabilmente è stato il primo a estrarle dai codici. Ma prima di vedere quelle nuove, vediamo le tre che sono già uscite. Allora, infliggi danni agli stormwing avversari con una mitraglietta o una mitragliatrice, raccogli i forzieri cielo di rarità diversa come pilota e gioca partite ad avviazione reale. Allora, dovremo giocare sette partite, questo è semplicissimo, infliggere danni con la mitraglietta o meglio, se riuscite a trovarla, con la mitragliatrice e la machine gun e raccogliere diversi tipi di forziere come pilota. Ovviamente, se giocate con un amico, vi consiglio di tenere questo come gruppo assistito in modo tale che non dovrete litigarvi chi guida per prendere le ceste e, indipendentemente da chi dei due le prende, valgono comunque per entrambi. I forzieri devono essere di tutte e cinque le rarità e il rosso non vale, se vi ricordate, vi avevo detto che appunto sono cure. Completando queste missioni otterremo dei bellissimi wrap delle mimetiche, ma andiamo subito a vedere quali sono quelle che usciranno appunto tra due e tra quattro giorni. Vi ricordo ragazzi, se questo video vi sta piacendo, di lasciare un like e iscrivervi al canale, di dare un'occhiata agli altri miei video, perché tutte le settimane faccio uscire un video su come completare semplicemente e facilmente tutte le missioni settimanali, nonché faccio anche altri video di challenge, arena e molto altro. Ma ecco finalmente le missioni che sono state svelate. Se avete problemi con l'inglese ragazzi, non vi preoccupate, adesso le leggiamo tutte. Le prime tre appunto le abbiamo già viste. Fare danni con la SMG, prendere le varie ceste di rarità differenti e giocare sette match. La quarta, quinta e sesta missioni saranno invece di fare danni con la pistola, cioè la prima arma, l'arma che avremo nel primo slot, distruggere stormwing avversari, gli stormwing appunto sono gli aerei, quindi dovremo distruggerne cinque, e sopravvivere a cento avversari in Air Royale, che appunto è la modalità che riguarda queste missioni. Le successive tre, nonché le ultime tre delle nove missioni, saranno di infliggere danni con un assault rifle, cioè una R che nel nostro caso sarà la terza arma, il terzo slot, il fucile d'assalto per intenderci, di fare danni con le armi dello stormwing potenziate. Una cosa che non ho detto prima ragazzi, quando passate attraverso delle ceste vi verrà potenziato, anche per un certo tempo, l'attacco base dello stormwing, e questo si intende in questa missione, cioè di utilizzare per quel certo tempo l'attacco potenziato per infliggere 4.000 danni agli avversari. E infine di piazzarsi tra i primi cinque per ben tre volte, come vi ho già detto ragazzi, ci sono 12 coppie, quindi piazzarsi tra i primi cinque non è assolutamente un'impresa ardua, soprattutto se state il più fuori possibile dai combattimenti. Detto questo, non penso che ci sia bisogno di parlare molto di più di queste missioni, perché sono abbastanza semplici, quello che mi interessava era appunto farvele vedere tutte quante, eccole qua. Voglio tenere il video il più breve possibile, noi ci vediamo venerdì in cui pubblicherò il video delle missioni settimanali, e niente ragazzi, da pulsare è tutto, al prossimo video. Ciao, bella! Ciao, bella! Ciao, bella! Ciao, bella! Ciao, bella! Grazie a tutti